Allora, lei da oggi non si chiama più Ermete Maria Grilli, ma... Nando. Cognome? Totti. Totti, Enrico Totti. Totti, come il capitano, Totti. Totti. Lavoro? Guido i camions. Eh no! E lei ne casca sempre sul plurale. I cami, si dice i cami. È come le mano, mi lavo le mano. Capisco, è irregolare come braccio e braccia. No, quelli sui bracci. È ardo, capita che mi confonda. Che confonda? Congiuntivo. Ma lei è matto. Per un romano il congiuntivo è come veleno.